Non la faccia. Così? Così? No, Gesù ha gli occhi chiari. Di che colore? Blu o verdi. Bluastri, verdastri. Tieni. Ehi, grazie. Hai dormito abbastanza? Non molto. Ho detto che Gesù ha gli occhi chiari. Io ho blu. I tuoi sono verdi, i miei sono blu. Quindi è noi che vediamo. È davvero un bel complimento. Al college ho letto che il concetto personale che ha... di essere amati nel modo in cui tu li ami. Sono molto fortunati. Ti e rin Si. Io ho detto che... Ma cosa domani?